Ti chiedi come gestire al meglio le tue risorse finanziarie e pianificare il tuo futuro? Scoprilo dal primo al 31 ottobre durante i tanti appuntamenti gratuiti del Mese dell'Educazione Finanziaria. Eventi, seminari, lezioni in spettacolo e dibattiti ai quali partecipare anche online da casa tua. Si parlerà in modo semplice e rigoroso di scelte finanziarie, assicurative e previdenziali ai tempi del coronavirus. Vai su quellocheconta.gov.it, trovi il calendario completo. Un'iniziativa promossa dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria.